Vandalismo, prostituzione, spaccio di droga, manche autobruciate e furti, lungo il rosario delle venti di micro criminalità e non solo registrati a sassari fra il centro storico e la periferia di Lipunti negli ultimi tempi. L'allarme in corso d'anni si è aggravato con la pandemia e diventa adesso oggetto di un'interpellanza firma del PD locale con due punti all'ordine del giorno. Il rilancio del patto per la sicurezza cittadina e la richiesta al sindaco di informare sulle misure intraprese per far fronte alle emergenze. Su la prima voce il gruppo Democrat sottolinea come il patto, stipulato con prefettura, regione, comune, anci e autonomie locali, sia scaduto il 28 febbraio e richiederebbe un rinnovo. Ma da palazzo locale risponde Manuel Alivesi. Il patto, afferma il capogruppo di Noi per Sassari, esiste già, supera di fatto quello del 2018. L'ha sottoscritto il primo cittadino che, assicura il consigliere, ha preso di petto questo delicato problema insieme all'amministrazione. Intanto, politica a parte, sono i cittadini a denunciare lo stato di cose. Nella parte più antica di Sassari, la distribuzione di stupefacenti nei vicoli e ai massimi livelli. Cocaina, eroina, acidi, le sostanze più gettonate e a prezzi, come fa notare un abitante, molto bassi, tanto da permettere ai giovani e ai giovanissimi di poterli acquistare con facilità. Cresce poi anche il fenomeno delle cosiddette baby gang più volte denunciato, che si traduce in frequenti atti di bullismo. Le forze dell'ordine vigilano, ma riferiscono i residenti. Ci sarebbe bisogno di aumentarne la presenza.